tanti auguri tanti auguri a jazz tanti auguri jazz a oggi buon compleanno jazz che gioca sempre anche lui su fortnite ogni tanto quindi il faccio faccio tanti tantissimi auguri tra l'altro poi jazz è anche abbonato quindi lo ringrazio anche di quello che si è si è abbonato quindi vieni a giocare vieni a giocare ogni tanto e voglio farti vedere per questo video faccio vedere dei modellini di biciclette guardate dei modellini di biciclette così non farvi vedere i modellini biciclette qua così ma c'è un po di polvere sono un po impolverati devo farvi vedere vabbè poi cosa cosa ti faccio vedere non lo so ti faccio vedere questo ciao 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 vabbè qua c'è ci sta mio nipote paciuga con questi leggo qua e niente faccio vedere così cos'è caso cos'è caso cos'è caso cos'è caso tanti auguri a jazz tanti auguri a jazz tanti auguri a jazz tanti auguri a jazz tanti auguri ti faccio vedere la cavalletta aspetta eh guarda aspetta 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 che la giro mamma mia ma si capisce si capisce che è una cavalletta sì che si capisce che è una cavalletta insieme una cavalletta fatta con con delle foglie d'erba la fanno poi cosa ti faccio vedere ti faccio vedere un questo qua la festa dell'unicorno festa dell'unicorno questo qua che ti danno delle bevande da bere con che bevi dentro il corno non ti faccio vedere non lo so c'è vedere questo questo lo vinto in irlanda ciao 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 e niente così dai ti ho fatto vedere delle cose a caso sono qua in massarda e veramente un salutone un salutone ciao 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 jazz grazie di seguire il mio canale grazie grazie mille di tutto e ancora tantissimi auguri spero che tu ricevi tanti bei regali che ti diverta che festeggi bene ciao ciao ciao